Corrado! Ci prendi in braccio? Dove sono i regalini? Ti stiamo aspettando! Dov'è la mia bicchierovka? La tua bicchierovka? Ti ho detto e me la sono bevuta tutta quella Non chiede gli occhi Non chiede gli occhi Opla Elena No Elena no Una foto perchè si vuole Abbassi un pochettino E' il primo fornizio dai va Un pochettino in mezzo qua Vai il caviale! Aspetta fermo Mi vuole il caviale Ecco qua Ma anche a me Ma una persona Ma un po' la Essi Dove? Wow! Laiana, fammi vedere Cagata Sai come fare? No! Si che lo sa Ho detto No Elena Cattivo Ma che battute fai? o non sono battuti Fate la stancetta Dopo la mia sedia generale, no? Sì Prepariamo il letto Mi devo spostare? Sarebbe meglio Questo non è live Però voglio vedere mentre lavori cosa fai Come lavori Poi ti critichiamo Eh, non so, perché prima è vero E come qua? Oddio, poi Beh, è morbido Morve davvero Dimmi Il signor ha già fatto la prima vista Stamattina Ah, sono in vigna Sta a posto? No? Perché no? Non mi sono in giro Oh, sì Che cosa ti voglio mettere in giro Non mi sono in giro Non mi sono in giro Non mi sono in giro Sì, non mi sono in giro Non mi sono in giro Non mi sono in giro È davvero Ah . . . . . Vedeci? Intr-asiasi timo faccio scantie ca el si coaguleza. Si vedeti cum in parte dei marginuti ele chiar au efecti coagulezzi. Devei s-a duc tanto si esti in capo. Astea-s Dr. Eclitnico. Poptim domnul Andrei? Da, da, da. Si-a pus cartea tipo el in vas. Iiii, toi vieni. Allora la prendo io. Non mangiatela perchè ora è nata. Ahah. Sono tanti tipi di impianti dentali. Servono tanti diametri, tante misure. Qua per esempio abbiamo il diametro 3,7 mm. Andate via. Andiamo, andiamo di là che c'è più luce. Oleg sono i signori che ti vogliono salutare. Da salutare. Di saluto ragazzi che vogliono viaggiare di noi, di noi, di noi. In bel viaggio. Non ne hai neanche uno di questi qua. Non ce li ho tutti diversi, ce li ho tutti che è diverso. guardami, gioca con lui, che ti devo guardare? sul mano, addio, hai fatto 5 minuti di camminata ma chi cazzo mi fa fare? cioè guarda che non mi guarda neanche, girati, guarda, guarda, guarda come cammina, che cattiva, tanto ti chiamo la spesa, cioè ma non avevo tu, sì sì vi ho portato a farla spesa, dai povero, sta al fresco abbiamo pagato 10, non sono 10, sì, in più pagano, diciamo, di più, 3 euro in più abbiamo speso, 10,50 euro e l'alcol? no, 10,50 euro allora, uno, uno, l'esperta in bini, bimì, vabbè ormai con tutti i giri nelle cantine No, era sarcasmo Aperitivo Ma guarda Teo Non toccare, metti a posto E qua questi sono il mirto che ha portato Elio Sua moglie E poi c'è questo che è sfumante Cricoba Sì, è per fare l'aperitivo Con l'apero E ci sono anche i denti E dopo che abbiamo detto che siamo ultimi No, la bella Ah, questo l'hai cosa O dormi o per rotino Allora, all'inizio non ci vede No, lo vivi in un'inizio Io si muro da Pazzo a me Ci guarda se... Ci guarda se ci avete ancora Voglio...